Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del notiziario, oggi è dedicata alla politica. Sulla vicenda messinese, Movimento 5 Stelle interviene il leader di un'altra gera, Lucio Greco. Sentiamo. Chi invita messinese a governare la città nonostante il terremoto che si è verificato in Casa 5 Stelle dimostra di non avere a cuore le sorti di Gela. Come dovrebbe il sindaco messinese a giudizio di queste anime candide affrontare e risolvere i drammatici problemi che stanno facendo sprofondare il nostro territorio verso un baratro da cui sarà forse impossibile uscire? Lo ha scritto in una nota il leader di un'altra gera, l'avvocato Lucio Greco. Certo, un sindaco così debole, per giunta sconfessato e scomunicato dallo stesso Movimento che lo ha proposto, può far comodo a tutti. Privato della corazza del Movimento di cui faceva parte, leggiamo ancora nel documento, e senza più poter beneficiare delle garanzie dei vertici regionali e nazionali dei 5 Stelle, quel sindaco che dovrebbe governare la città si è ridotto ad una sorta di fantoccio, impossibilitato a prendere qualsiasi decisione autonoma in linea con quanto proclamato durante la campagna elettorale. Può se vuole rimanere, ma ad una condizione sconfessi se stesso tutto il suo recente passato e ubbidisca tutti gli ordini che i furbetti del paese sono pronti ad impartirgli. Non si comprendono però le ragioni che lo hanno spinta a presentare ricorso contro l'espulsione dal Movimento 5 Stelle. Perché delle due l'una, continua Lucio Greco, o è un sindaco rappresentante delle 5 Stelle, per coerenza quindi dovrebbe rifiutare l'appoggio di chi fino a ieri era nei suoi avversari politici da abbattere, oppure un furbastolo della peggiore specie che ha già stretti accordi sotto banco con chi ha affossato la nostra città. Dalle scelte future capiremo quale delle due posizioni risulterà essere vera. Per intenderci e per essere chiari, se in caso di esito negativo del ricorso si dimette, siamo di fronte ad un galantuomo degno di rispetto. Se invece nonostante la conferma dell'espulsione rimane incollato alla poltrona disponibile a fare accordi a destra e a manca con chi che sia, siamo di fronte ad un avventuriero senza scrupoli, un nemico della città e un qualunquisto opportunista che va bloccato politicamente al più presto possibile senza ricorrere alle fantasiose, sofisticate e gattopardesche analisi di qualche rappresentante della nostra povera politica gelese, conclude Lucio Greco di un'altra Gela. Siamo alla cronaca, fiamme al portone di ingresso di un'abitazione di via Risorgimento nel cuore di San Giacomo. Il rogo è stato appiccato subito dopo la mezzanotte, nella notte tra sabato e domenica. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati gli agenti di polizia delle volanti. Non sono ancora chiare le modalità dell'atto. Nella zona, infatti, sono presenti diversi appartamenti. I danni sono in corso di quantificazione. Nello stabile colpito abitano diverse famiglie. Sanità fa ancora discutere la paventata chiusura del punto nascita di Mussomeli, che priverebbe il vallone di un importantissimo presidio che serve diversi paesi. Sentiamo. Continua a far discutere la paventata chiusura del punto nascita di Mussomeli, questa volta di intervenire la direzione provinciale del Partito Democratico di Caltanissetta, che si è riunita proprio per scongiurare la chiusura del punto nascita. Abbiamo preso atto delle decisioni del ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin, di non concedere le deroghe previste dalla normativa nazionale alla chiusura di alcuni punti nascita della Sicilia, applicando invece in modo asettico le regole numeriche, prescindendo dalle esigenze primarie di vita della collettività. Scrive in un comunicato stampa David Amico della direzione provinciale del Partito Democratico. I tecnici del ministero, leggiamo ancora nel documento, nel negare la deroga al punto nascita dell'ospedale della zona di Mussomeli, non hanno tenuto conto di diversi fattori oggettivi. Innanzitutto l'ospedale di Mussomeli serve a una vasta zona denominata Vallone Alto Platani, che comprende i comuni montani interni di tre province, Caltenissetta, Grigento e Palermo, Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Milena, Montedoro, Bonpensiere, Villalba, Vallelunga e Marianopoli, Castel Termini, Cammarate e San Giovanni Gemini, Castoronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Alia, Valle Dolmo e Roccapalumba. Che inoltre tale zona orograficamente è tra le più disastrate della Sicilia per carenze di adeguate vie di comunicazione, tanto da essere definita l'isola nell'isola. Che i comuni della zona Vallone Alto Platani, continuando a subire la chiusura dei servizi e delle vie di comunicazione, sono destinate a morire, a causa della veloce e continua scomparsa della popolazione. Se potenziato e messa in sicurezza, il punto nascita potrebbe raggiungere abbondantemente i limiti fissati dalla normativa nazionale. Il Partito Democratico chiede dunque al ministro Beatrice Lorenzin di rivedere la decisione sul punto nascita di Mussomeli, concedendo la deroga condizionata al raggiungimento dei parametri di sicurezza entro un determinato periodo. Chiede inoltre all'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi al governo regionale di mettere in totale sicurezza sia il punto nascita che l'intero ospedale di Mussomeli. Questa sera alle ore 18 presso la sede del comitato di quartiere Settefarine in via Settefarine al numero 141 si terrà un incontro con l'amministrazione. Saranno presenti il sindaco, gli assessori ai servizi sociali, i lavori pubblici, tutti i residenti sono invitati a partecipare. Sono stati commemorati nel settantesimo anniversario dalla loro scomparsa gli otto carabinieri sequestrati e trucidati presso l'ex caserma di Feudonobile. Vediamo. Sono stati commemorati ieri gli otto carabinieri rapiti e successivamente uccisi 70 anni fa. Erano tutti in servizio all'ex caserma dell'arma di Contrada Feudonobile ancora esistente nonostante il lunghissimo tempo trascorso. Nella chiesa del Rosario durante la celebrazione eucaristica è stato il vescovo Monsignor Rosario Gisana a ricordare caduti e quei terribili giorni rimasti impressi nella storia locale e non solo. Non possiamo dimenticare questo gesto che lo vorrei per certi versi accomunare anche ad altri gesti martiriali che purtroppo la nostra regione ha vissuto, ha sperimentato. Purtroppo perché chiaramente sono perdite di vite. Dall'altra parte però bisogna dire che questo sangue, come diceva un padre della chiesa, uno scrittore cristiano antico, tertuliano, effettivamente diventa poi seme di virtù, di grazia, seme in questo particolare caso di legalità. Vorrei veramente che questa commemorazione potesse essere un modo per poter sentire sempre noi in maniera viva il senso della giustizia, il senso della pace, il senso di quella legalità che promette un futuro migliore per i nostri giovani. Questo è stato l'impegno fondamentalmente di Gesù, di porre l'attenzione sulle persone bisognose, dagli ammalati ai peccatori, ai poveri. Per cui sarebbe veramente un controsenso che la chiesa non avesse questa attenzione, certamente spingendo anche le istituzioni civili, dall'altra parte anche assumendo in se stessa l'impegno di avviare attività concrete che possono essere motivo di accoglienza e soprattutto facciano veramente sentire che anche le persone che vengono da lontano, che hanno altre religioni, che hanno altre culture, alla fine siamo effettivamente tutti un unico uomo, direbbe la scrittura, quella dam da cui tutti proveniamo. Dopo la Santa Messe è stato deposto un omaggio alla memoria nel luogo dell'ex caserma. La commemorazione c'era nei componenti dell'Associazione Nazionale Carabinieri, presieduta in città dal luogotenente Domenico Resciniti, il maggiore Valerio Marra, comandante del reparto territoriale, e il colonnello Gerardo Petitto, comandante provinciale. Erano presenti anche le autorità civili. Sono aperte le iscrizioni per i nuovi aspiranti volontari e pionieri della pubblica assistenza Procivis di Gela, diretta da Luca Cattuti. I volontari del soccorso si impegnano personalmente in un servizio di solidarietà per la propria comunità. sono componenti attivi di un'organizzazione integrati in un sistema organizzato, quale quello del soccorso sanitario e della protezione civile. Per maggiori informazioni sulle iscrizioni è possibile recarsi presso gli uffici di Via Ossidiana al numero 23 ogni giorno dalle 15.30 alle 20.30, oppure chiamare il numero di telefono 0933 93 83 12 o ancora inviare una mail all'indirizzo p.a.procivischioccioratiscali.it. Sarà possibile iscriversi fino al 31 gennaio prossimo. Il corso di formazione pratica e teorico proseguirà poi per 18 mesi. Salviamo il salvabile è la commedia brillante che la compagnia Sipario 21 e l'Associazione Demetra porteranno in scena sabato 16 gennaio prossimo alle ore 21 al Teatro Eschilo di Gela. La regia è affidata a Maurizio Nicastro. Continuano gli appuntamenti col grande jazz al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Venerdì 29 gennaio prossimo andrà in scena Fabio Concato. L'inizio dell'evento è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 oppure chiamare i numeri di telefono 0933 911 892 345 58 80 580. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino. Continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel programma Natale 2015-Capodanno 2016 organizzati dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela preseduta dal maestro Crucifisso Ragona. Domenica 17 gennaio prossimo alle 19 concerto del trio Antonella Callea al flauto, Lucia di Mora al violino, Salvatore Gaglio al pianoforte. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con 10 domande 10. Ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà il giornalista Lucio Cordaro. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18.00. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo prossimo dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per potersi registrare. Lo hanno comunicato i padri agostiniani. Adesso apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport. C'è il calcio, pareggio per il Gela e Biancazzurri. Non vanno oltre lo 0-0 con la Folgore. Un'occasione persa per approdare in vetta la classifica del campionato di eccellenza. Pareggio infatti anche per la capolista San Cataldese. Sentiamo il nostro Flavio Centamore. Un Gela paralizzato da una Folgore, avrebbe da dire all'indomani del match tra Petroni di Casa del Gela e la Folgore Selinunte, andata in scena ieri pomeriggio allo stadio Vincenzo Presti. Ospito uscito indenni dalla sfida contro i Biancazzurri di mister Toto Bruculeri e con un punto forse proprio cercato. Amarezza invece in casa Gela per non aver ottenuto il sorparso sulla San Cataldese bloccata anch'essa sullo 0-0 nel derby contro il Mussomeli. Tutto è mutato dunque con Gela e San Cataldese che continuano a controllarsi a poca distanza in attesa dello scontro diretto del prossimo 24 gennaio. Il Gela visto ieri comunque avrebbe meritato i tre punti se solo la mira dei suoi attaccanti fosse stata delle migliori. Gli errori sotto porta di Mincica ma soprattutto Alma a pochi istanti dalla fine hanno penalizzato oltremodo la formazione di casa uscita comunque tra gli applausi del Presti. La Folgore d'accanto suo ha giocato in maniera ordinata e sicura poche le azioni offensive dei trapanesi che hanno soprattutto pensato a contenere gli avversari cercando di pungere nelle ripartenze. Pronti via gli ospiti perdono per un infortunio migliore al suo posto entra Messina. Al quindicesimo ci prova Bongiovì dentro l'area di rigore del Gela ma il suo tiro di esterno destro è da dimenticare. Al diciassettesimo punizione di Mincica per il Gela palla alta sulla traversa. Al ventesimo ancora Folgore con Zekan ma il suo tiro è debole. Poi è solo Gela. Al ventitresimo ci prova Scherra ma la sua conclusione è fiacca. Ci prova allora Nassi al ventitresimo servito da Alma ma la conclusione del numero 9 Biancazzurro è smorzata dalla difesa della Folgore. Al trentaseisimo Scherra invece di girare di testa direttamente in porta tenta di servire Nassi ma sbaglia clamorosamente. Al quaranturesimo diagonale di Mincica ho avrato da montagna. Il primo tempo termina così con il Gela in attacco ma senza la giusta lucidità sottoporta. Nella ripresa lezioni offensive dei padroni di casa si fanno più insistenti. Al sessantacinquesimo Mincica di testa sul corso di Alma manda la palla fuori di un niente. Il Gela si spinge in avanti ma la Folgore tiene duro con determinazione. A tempo quasi è scaduto Alma e sui piedi la palla buona per mandare in estasi il pubblico del Presti ma la sua conclusione di sinistro da due passi termina di poco a lato. Disperazione totale per i sostenitori biancazzurri che capiscono che non è giornata. Così dopo 5 minuti di recupero segnati dall'espulsione per un rosso diretto immediato da Secan per un fallo sul Campanaro e alcuni momenti di tensione per l'allontanamento dell'allenatore Giacomo Cascino in panchina per sostituire lo squalificato Bruccoleri l'arbitro tarallo di aggringendo decrete alla fine dell'ostilità e il pareggio d'occhiali si materializza al Presti. Appuntamento con l'istropasso rimandato. Adesso sentiamo i microfoni di Flavio Centamore, protagonisti della partita di ieri. Mister, dove partiamo? Da quel gol divorato da Giuliano Alma o comunque da una partita che il Gela ha provato a vincere ma non c'è riuscito? La partita, penso che gli avversari erano messi bene in campo, ci hanno chiuso tutti quasi tutti i varchi che avevamo a disposizione per cui ritengo che nel momento in cui la squadra gioca 10 uomini e la palla non è molto facile. Abbiamo cercato in tutti i modi di poterle scardinare poi ci siamo devorati qualche gol, il portiere è stato bravo in qualche occasione per il resto penso che Pandolfo per un avanti avvenuto è stato inoperoso tranne che un tiro in porta. Quindi non ha nulla da rimproverare ai suoi ragazzi? Devo rimproverare, oggi magari è mancato il faro del centrocampo per cui la squadra ne ha risentito tutto l'aspetto del gioco regalare il giocatore come buona fine non avendo possibilità in mezzo al campo di poterlo sostituire è chiaro che la squadra è in una difficoltà. La classifica rimane mutata, adesso bisognerà giocarsi la vetta della classifica dalla partita della prossima gara contro l'Alba Alcamo? Sì, le partite sono tutte difficili, ormai c'è un ritorno in giro di Boa per cui è chiaro che le interpretazioni delle partite sono tutte importanti viene anche nel fatto dei risultati, poi subentra anche l'adrenalina, il nervosismo tutta una serie di circostanze, però io penso che due partite una settimana mercoledì e oggi è chiaro che ha pesato il rendimento della squadra. Le prime 45 minuti ci siamo collati anche il fatto stesso che magari abbiamo corso delle volte inutilmente, dove magari riuscivamo a cercare di giocare sulla seconda palla cercando di accorciare, per cui abbiamo sprecato energia fisica e mentale invece magari avendo qualcuno in mezzo al campo potrebbe fare girare la squadra se accorciavano meglio i reperti, questo sicuramente l'abbiamo pagato. Giuliano Almas, tutta volta ti ha sparato la amarezza per non averla messa dentro a pochi minuti della fine, il gol che poteva avere la vittoria per la squadra biagazzurra? Sì, sì, c'è molto dispiacere per questo, perché comunque era un gol che sicuramente valeva la vittoria anche perché la San Cataldese, se non erro, ha pareggiato, quindi poteva esserci il sorpasso però comunque sia stata una buona prestazione, meritavamo, penso, la vittoria è stata una partita combattuta, però siamo fiduciosi per la prossima partita, ecco E nel campionato di promozione pareggio per l'Atletico Gela 1-1 in trasferta col Santa Croce consolidato il terzo posto, vince per 3-1 il Macchitella, battuto al Presti il Comiso, vediamo Termina con la vittoria per 3-1 del Macchitella Gela sul Comiso l'anticipo della diciassettesima giornata del campionato di promozione Gironi D andà di scena sabato pomeriggio al Presti Contro il fallarino di coda del torneo, i padroni di casa mettono a segno la seconda vittoria di fila grazie alla doppietta di Tuve e la rete di Castania, piazzandosi così a metà classifica con 19 punti Bene dunque la prima gara in casa degli Aquilotti che domenica prossima dovranno vedersela contro l'Atletico Gela che ieri pomeriggio ha pareggiato 1-1 sul campo del tremibile Santa Croce Sì, era importantissimo portare a casa i tre punti, anche perché il Comiso è una diretta concorrente per la salvezza ci siamo riusciti Il merito va ai ragazzi perché oggi hanno mostrato l'impegno e il sacrificio per portare a casa questi tre punti importanti e il merito va veramente ai ragazzi che non finirò mai di ringraziarli giorno dopo giorno Abbiamo giocato bene entrambi i tempi e abbiamo avuto un po' di paura quando loro hanno pareggiato per un nostro errore su un'uscita e di conseguenza la squadra poi ha avuto paura Abbiamo impegnato più di un quarto d'ora per rimettere in moto il nostro sistema di gioco e poi i ragazzi hanno dato veramente quelle occasioni che poi ci hanno portato avanti per 3-1 contro il Comiso Dalla passione per le ruote grasse all'impegno agonistico passa da un duro allenamento la volontà di condividere l'amore per la mountain bike di un gruppo di sportivi gelesi che ha dato vita all'ASD Bike Team Gela Una nuova avventura nel mondo dello sport a due ruote capitanata da Giuseppe Abela e Francesco Di Giacomo rispettivamente presidente e vicepresidente della neonata associazione sportiva Con loro nel consiglio direttivo altri 9 atleti Si tratta di Peppe Caffà che avrà il ruolo di segretario Domenico Polara, Enzo Buccheri, Enzo Laporta, Sandro Schembri e due coppie di omonimi, Cugini, Graziano Didi e Carmelo Dinesi Il team è già pronto per affrontare il campionato MTB Coppa Sicilia che inizierà il prossimo 21 febbraio presso la diga Comunelli 9 in tutte le tappe di campionato che si distinguono in diverse specialità Ci siamo ritrovati a fare squadra grazie al nostro quotidiano allenamento Hanno affermato Abela e Di Giacomo, appassionati di mountain bike abbiamo così deciso di costituirci squadra grazie al sostegno di numerosi sponsor D'ora in poi anche la nostra città avrà così una rappresentanza nei campionati regionali Invitiamo quanti condividono l'entusiasmo per questo sport concludono a tesserarsi con noi E infine c'è l'informazione cinematografica Uno per tutti è il film in proiezione al cineteatro antituto di Macchitella con questi orari di rotazione della pellicola 17.30, 19.30 e 21.30 Tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione Vi ricordiamo che notizie, approfondimenti e servizi sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it Vi ricordo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato Arrivederci Grazie 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 Grazie